Renzi è fatto così, cioè lui non punta ad avere un consenso da statista, cioè da quello che semina aspetta che cresce il raccolto e poi lo mette nel futuro, ma da capopopolo. Per questo è arrogante si presenti in quella maniera e secondo me sta facendo il danno del Paese, perché la credibilità non ce l'hai con operazioni tipo quella che abbiamo visto ieri a Palazzo Chigi con davanti il PC e facendo un po' di chat, ma ce l'hai costruendo e creando i posti di lavoro. Quando metti in baratto e dici i posti di lavoro si perdono con referendum, ma che c'entra? Vogliamo parlare dello sviluppo energetico dell'intero Paese? Allora a questo punto vai a parlare sul serio di quello che costa l'energia per produrre un mobile piuttosto di produrre l'acciaio. Sulla questione che dicevamo prima, si incrociano costantemente dei conflitti di interesse, ma anche nel modo di muoversi, perché questo è un governo che oggi mette la fiducia sul decreto che vuole rivedere la formula associativa delle banche di credito cooperativo. Ha messo la fiducia quando si parlava delle banche popolari, ha messo la fiducia costantemente e questo impedisce poi che cosa? Impedisce di andare a guardare quello che sta negli emendamenti, perché se gli emendamenti li porti in commissione o li discuti emergono queste faccende, ma se metti dentro un tutto o niente o voti a favore o voti contro. Allora